Qui siamo in un'altra parte di Atotonilco, è l'alto, di nuovo a circa mille metri sul livello del mare. Qui possiamo vedere un'agave che sta veramente entrando nella fase adulta. Questa è la prima fase di, anzi, è come la fase di sviluppo post-adolescenziale. Chiamiamo queste piante entrado, agave entrado, agave post-adolescente. E sappiamo che non è ancora pronta ad essere usata, perché alla base della penca è ancora piuttosto sottile. Quello che davvero cerchiamo quando la pianta inizia davvero ad arrivare alla maturità, la base della penca, sono queste foglie, si spessisce e allarga. Ed è così che sappiamo di avere una pianta post-adolescente, che sarà adulta entro pochi anni.